Si è tornato a parlare del mercatino per la vendita diretta di prodotti agricoli all'Arboreto Cicchetti di Riccione in Consiglio Comunale. Innanzitutto, Sindaco, com'è andata, visto che negli ultimi giorni ci sono state anche alcune voci contrarie a questa iniziativa? Ma direi che c'è stato un bel dibattito, forse magari un pochino lungo, ma alla fine direi che il Consiglio Comunale tutto ha approvato questo regolamento. Quindi è un aspetto interessante e importante nello stesso tempo, sia per gli aspetti legati all'attenzione forte al consumatore, quindi al cittadino, e dall'altra parte però anche quello stile di vita e quella qualità della vita che sempre di più sta passando per accorciare le filiere dalla produzione al consumo e soprattutto anche quell'aspetto della qualità al quale tutti cerchiamo di tendere ultimamente. Quindi questo approccio culturale mi sembra che sia positivo, insomma, in un'attenzione diversa nel consumo del territorio, nell'attenzione proprio anche ad aspetti di alimentazione, quindi di qualità dell'alimentazione, utilizzando i prodotti della nostra terra e consumati nel momento in cui vengono prodotti e non il tema delle primizie, che un tempo sembrava quasi un aspetto di impossibilità a rinunciare in tutto l'anno a certi prodotti, invece oggi mi sembra che stia passando questa nuova cultura e questo è importante e Riccione vuole essere all'altezza. Giorni fa anche la Confesercenti aveva detto che con l'apertura del centro commerciale di via a Berlinguer abbiamo già sentito la crisi, questo sarebbe un ulteriore colpo per i piccoli commercianti. Ma direi che sono due cose completamente diverse, insomma, una è la grande distribuzione e quindi c'è la consapevolezza della difficoltà e soprattutto anche delle problematiche che hanno i piccoli negozi, però anche gli stessi piccoli negozi si stanno adeguando e stanno attrezzandosi per rispondere ai nuovi bisogni dei consumatori perché è cambiato un po' il mondo e quindi spero e mi auguro che anche gli operatori del commercio comprendano che sempre di più non è l'offerta ma è la domanda che deve metterci nelle condizioni di modificare anche le nostre imprese. Un tempo era appunto diverso, questi aspetti sono legati unicamente a un mercatino che è quello legato ai prodotti della nostra terra, sono 12-13 i punti, sono all'interno dell'arboreto che sta diventando sempre di più un punto di riferimento per l'altro consumo, quello che viene chiamato l'altro consumo, un consumo appunto come dicevo prima che sta nell'ambito della ecosostenibilità e di una sensibilità nuova e diversa. Questi consumatori comunque andrebbero a cercare questi luoghi, questi posti e quindi questo credo che possa essere anche uno stimolo per gli stessi operatori, per gli stessi commercianti di adeguarsi e di scegliere anche percorsi nuovi e diversi nelle filiere della produzione, anche nelle filiere del consumo e quindi anche nelle filiere della vendita. Rimaniamo nei punti affrontati in Consiglio Comunale, il permesso di costruire in deroga per il recupero dell'area ex fornace. In poche parole cosa è successo? Noi abbiamo approvato il progetto in deroga così come doveva essere in ragione appunto del progetto esecutivo che è stato presentato e dall'altra parte anche tenendo conto del svincolo storico paesaggistico fatto dalla sovrintendenza, quindi in questo senso abbiamo preso atto di questi aspetti, abbiamo approvato quindi in deroga il progetto, oggi noi siamo in grado appunto di far avviare anche i lavori e della scuola e credo che questo è un elemento fondamentale sul quale ieri sera in particolare si è dibattuto. Non sono molte le realtà e i comuni che oggi investono nella scuola, noi stiamo investendo puntualmente nella scuola, oggi nella fornace, trasferendo lì la scuola media, dall'altra parte a San Lorenzo, trasferendo gli uffici GEAT per rafforzare il polo scolastico di San Lorenzo, quindi un'attenzione forte alle nuove generazioni, un'attenzione forte all'educazione e un'attenzione forte alle famiglie. Questo era un impegno che noi ci siamo assunti e quindi ci auguriamo per il prossimo anno, per la fine del prossimo anno di poter inaugurare una nuova scuola che è un segnale forte di una comunità che creda nel proprio futuro. Inaugurare? Certo, inaugurare, quindi mi spingo in avanti proprio perché l'obiettivo è per il prossimo anno di poter inaugurare quella scuola, i tempi ci sono, i termini ci sono e dall'altra parte devo dire che una scuola che ha anche un altro ruolo, quello di un recupero di un sito archeologico, è un pezzo della storia della nostra città, molte volte ci criticano perché sprechiamo o comunque utilizziamo altro territorio, in questo caso trasformiamo una costruzione già realizzata, quindi delle superfici che sono già in essere e le mettiamo in uso pubblico all'interno di un parco perché il prossimo obiettivo per noi sarà quello di immergere quella scuola all'interno del parco e collegarla appunto con l'arboretto Cichetti e con il parco centrale, quindi dare alla città un polmone verde che penso poche città hanno così vicine al mare, soprattutto nel suo cuore, quindi sarà il nostro polmone verde ma sarà anche la nostra salvezza. E per quanto riguarda lo stato invece dei lavori sulla viabilità circostante, via Vittorio Emanuele, via Massawa, quali sono i tempi? I tempi sono quelli che appunto noi in primo luogo abbiamo fatto proprio la viabilità, anche se purtroppo la viabilità di via Massawa, la nuova via Massawa, chiamiamolo così, in questo momento non arriverà sulla statale, lì ci auguriamo col patto di stabilità di sbloccare quel lavoro, in quanto il prossimo anno vorremmo mettere in cantiere la rotatoria sulla statale che oggi noi abbiamo fatto provvisoriamente in fondo a Viale Berlinguer e appunto collegare il tratto di strada già esistente, quello che stiamo realizzando adesso. Questo ci permetterebbe di sminuire o comunque di ridurre il traffico su Viale Ceccarini e quindi ridare a Viale Ceccarini, dare anche a Viale Ceccarini un nuovo respiro e creare anche un più facile raggiungimento della zona mare e della zona porto perché dall'uscita dell'autostrada arrivare nella nostra zona turistica sarebbe un batter d'occhio e quindi eviterebbe insomma tutta una serie di giri all'interno della città e quindi migliorerebbe la qualità stessa. Quindi questo è l'obiettivo principale, ci auguriamo di poterlo raggiungere appunto il prossimo anno anche con questa realizzazione.